qui alla mess siamo a pomigliano d'arco e questa mattina abbiamo un evento particolare c'è una collaborazione tra mess consulting e cord qui ho con me l'ingegnere montagna che è responsabile dell'area metrologia e non so buongiorno ingegnere che cosa ci vuole dire in merito a questo evento come le diceva mi interesso nell'ambito della metrologia del collaudo dimensionale in particolare del service in quanto addentrato ovviamente fino al collo nell'ambito dimensionale non posso che essere entusiasta di questa collaborazione che sta nascendo con cord che ormai è bella che avviata e che ci dà la possibilità di rappresentare una base un punto di appoggio per tutti coloro che hanno bisogno di una assistenza tecnica per quanto riguarda la cord ovviamente e per tutti quelli che hanno bisogno anche di un know how che noi mettiamo a disposizione come mess group ok che cosa si aspetta in futuro da questa collaborazione diciamo che tra le nostre tante capacità aziendali lo dico anche con un pizzico di mancanza di mista però sono contento di dire che ci mancava questo passo cioè la possibilità di offrire un'assistenza tecnica a 360 gradi che riguardasse anche il collaudo dimensionale effettuato con delle macchine di misura automatiche interessandomi principalmente del service ovviamente parliamo anche dell'utilizzo di strumenti in misura come laser tracker braccia antropomorpi in quest'ambito nell'ambito della collaborazione con la cord ci concentriamo sull'utilizzo di macchine di misura automatiche e sull'assistenza che può essere data al cliente non solo dal punto di vista tecnico sulla macchina soprattutto dal punto di vista tecnico per quanto riguarda l'utilizzo del software quindi anche per quanto riguarda la formazione delle figure professionali che dovranno utilizzare questo software secondo lei tra tanti aziende perché la cord ha scelto mess con tanti la cord ha scelto mess sicuramente per il nostro know how per le capacità e perché è un percorso naturale che adesso diciamo emerge in questa collaborazione vi ringraziamo per l'attenzione vi salutiamo alla prossima vi ringraziamo a tutti Grazie per la visione!